buongiorno e ben ritrovati a voi tutti cari amici fan dal sottoscritto Nicola De Lucio sul mio canale youtube per questo secondo video di oggi dove parliamo di palacanestro americana maschile biei proprio nelle primissime ore della mattinata italiana alle due si è giocata Boston Celtics versus Los Angeles Clippers presso il TD Garden in Boston con 19.156 spettatori al seguito gara terminata dopo ben due supplementari giocati al 48esimo era finita 114-114 ma con i tempi supplementari la gara è terminata sul 141-133 per i Boston Celtics per quanto concerne la cronologia dell'incontro andiamo a dare un'occhiata sull'equilibrio di questa partita che nel primo quarto ha visto chiudere in leggero vantaggio gli ospiti per 32 a 30 il secondo 60-58 per i Boston il terzo 91-87 ancora per i Boston nel quarto appunto 114-114 e poi ovviamente sono arrivati i supplementari dove ho detto anche prima di emergere sono stati in Boston per 141-133 Clippers che nonostante la sconvitta rimangono ancora ben saldi in zona playoff al gruppo ovest sono al terzo posto con 37 vinte 18 pass in Boston adesso sono terzi 38 vinte 16 pass ora mi pare che ci sarà la pausa per l'holo star game che si giocherà a Chicago se non vado errato i Clippers seconda sconvitta di fila terza nelle ultime cinque partite la prossima partita sarà la gara interna allo Staples Center il 22 febbraio quindi tra sette giorni contro i Sacramento Kings che sono tredicesimi ad ovest con 21 vinte e 33 perse mentre i Boston che hanno quattro vinte nelle ultime cinque si regheranno il 22 febbraio in gas dei Minnesota Timberwolves che sono quattordicesimi ad ovest con 16 vinte e 37 perse quindi chiudo e ribadisco Boston batte dopo due supplementari Clippers 141-133 ciao bia 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 Grazie a tutti